The missile with the man in it, il missile con dentro un uomo. Così i primi piloti che ebbero modo di sedersi sui comandi definirono l' F-104 Starfighter, il caccio iconico che ha segnato un'epoca per l'aeronautica militare diventandone un vero e proprio simbolo. Monomotore monoposto bisonico multiruolo, ad altissime prestazioni, nato nei primi anni 50 dalla mente e dalla penna di Clarence Kelly Johnson, capo progettista della Lockheed, lo Starfighter risultò perfetto soprattutto per l'impiego come calcio intercettore ogni tempo. Era un puro sangue di razza, impegnativo, tutto affatto docile da domare e veloce, straordinariamente veloce. Di fatto era un vero e proprio razzo con una fusoliera cilindrica sottilissima, coda T e piccole ali trapezoidali con un forte diedro negativo. E non aveva rivali, sia per la velocità e angolo di salita, sia per quota di tangenza. Era lungo 17 metri e mezzo, alto poco più di 4 metri, con una superficie alare di 18,22 metri. Le ali erano così sottili che il bordo era addirittura tagliente. Pensate, in appena un minuto e mezzo, da quando staccava le ruote da terra, arrivava da zero a oltre 10.000 metri. Fu inoltre protagonista anche di gare di velocità rimaste nella storia. Per esempio contro la Ferrari di Formula 1 di un Gilles Villeneuve e contro la Ducati 999, vincitrice del campionato mondiale di superbike. Il motore era un General Electric J79 GE 11A, da oltre 7.000 kg di spinta, con posto bruciatore. L'armamento prevedeva 1.800 kg di carichi esterni, oltre al cannone Vulcan M61, da 20 mm, e due missili AIM-9B Sidewinder. Il primo starfighter italiano fu l'MM6501, un F-104G. Fu portato in volo nei cieli di Palmdale, in California, negli Stati Uniti, nel marzo del 1962 dal capitano Franco Bonazzi, mentre i primi piloti italiani inizialmente effettuarono l'addestramento in parte negli Stati Uniti e in parte in Germania, dove erano presenti alcuni esemplari di TF-104F bi-posto. Fu poi il quarto stormo di Grosseto, la culla di tutti i piloti di Starfighter dell'aeronautica militare. Nel nostro paese, gli F-104, furono costruiti su licenza dalla Fiat Tavio. La livrea originale era argentia con le ali bianche, ma ben presto si adottò dapprima quella mimetica verde-grigia e poi quella in grigio medio-opato. Per oltre 40 anni, l'F-104, in diverse versioni, come intercettore, caccia-bombardiere, ricognitore e con diversi aggiornamenti per l'estensione della capacità operativa di un aereo sempre bellissimo, ma che pian piano cominciava a sentire il peso degli anni, ha costituito l'ossatura dei reparti di volo dell'aeronautica militare, che ne utilizzò la variante da ricognizione anche durante la Prima Guerra del Golfo e fu l'ultima forza armata al mondo a dismetterlo. L'esemplare conservato al Museo Storico di Vigna di Valle, che riaprirà nel 2023 dopo un periodo di restauro e riallestimento è proprio l'MM-6501, il primo Starfighter consegnato alla Forza Armata, nonché l'unico F-104G italiano costruito negli Stati Uniti. L'ultimo turno d'allarme e l'ultimo volo operativo al mondo di un F-104 militare avvenne proprio in Italia, nell'ottobre del 2004, sull'aeroporto di Grazianese, in provincia di Caserta, sede del nono stormo. Gli ultimi due Starfighter furono portati al reparto sperimentale di volo di pratica di mare, dove svolsero una limitata attività di sperimentazione fino alla definitiva messa a terra nel 2005. Fu il tramonto di un'era, ma chissà, forse qualche altra sorpresa allo spillone potrà ancora riservarcela. Anche questa puntata di Asposto nel Tempo termina qui, ma torniamo presto, continuate a seguirci! Grazie!